La follia è quella divinità suprema capace di elargire benefici agli uomini e agli dèi, dona sapore all'esistenza portando all'accettazione di sé e degli altri, porta a compimento i matrimoni e le amicizie, rende armonica la società, a volte dissacra, ma non condanna mai. L'elogio della follia è stato letto ovunque in Europa e tradotto in varie lingue. In questo lavoro Rasmode Rotterdam vuole educare il lettore a comprendere come la rettitudine ha necessità di nutrirsi di altre virtù perché la vita sia degna di essere vissuta. Grazie